Quanto costa una stanza per una persona? Is breakfast included? La colazione è inclusa nel prezzo? Are pets allowed? Sono ammessi animali domestici? Sono ammessi animali domestici? Sono ammessi animali domestici? I have a reservation under the name of Kowalski. Ho una prenotazione a nome di Kowalski. Ho una prenotazione a nome di Kowalski. Ho una prenotazione a nome di Kowalski. Can I get a room with a sea view? Posso avere una camera a vista mare? Posso avere una camera a vista mare? Posso avere una camera a vista mare? Where can I find room number three? Dove posso trovare la camera numero tre? Dove posso trovare la camera numero tre? Dov'è l'ascensore? Dov'è l'ascensore? Is there free Wi-Fi access in the lobby? C'è la connessione Wi-Fi gratuita nell'ingresso? C'è la connessione Wi-Fi gratuita nell'ingresso? Posso chiederle di essere svegliato? Posso chiederle di essere svegliato? Posso chiederle di essere svegliato? A che ora devo effettuare il check-out? A che ora devo effettuare il check-out? A che ora devo effettuare il check-out? C'è il parcheggio in hotel? C'è il parcheggio in hotel? C'è il parcheggio in hotel? Do all the rooms have air conditioning? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Può compilare questo modulo di registrazione? Può compilare questo modulo di registrazione? Può compilare questo modulo di registrazione? Ecco la chiave della sua stanza. Ecco la chiave della sua stanza. Ecco la chiave della sua stanza. La sua stanza è al secondo piano. La sua stanza è al secondo piano. La sua stanza è al secondo piano. Could I have breakfast in my room, please? Posso fare colazione in camera? Posso fare colazione in camera? Posso fare colazione in camera? La colazione è dalle sette alle dieci. La colazione è dalle sette alle dieci. La colazione è dalle sette alle dieci. A che ora è aperto il bar? A che ora è aperto il bar? A che ora è aperto il bar? Would you like any help with your luggage? Vorrebbe aiuto con i bagagli? Vorrebbe aiuto con i bagagli? Vorrebbe aiuto con i bagagli? Enjoy your stay. Le auguriamo un piacevole soggiorno. Le auguriamo un piacevole soggiorno. Le auguriamo un piacevole soggiorno. Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Can you change my towel, please? Per favore, cambi il mio asciugamano. Per favore, cambi il mio asciugamano. Per favore, cambi il mio asciugamano. Vorrei un'altra stanza. Vorrei un'altra stanza. Vorrei un'altra stanza. La chiave della camera non funziona. La chiave della camera non funziona. La chiave della camera non funziona. The air conditioning doesn't work. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. There is no hot water. Non c'è acqua calda. Non c'è acqua calda. Non c'è acqua calda. Non c'è acqua calda. La chiave della camera non funziona. I would like to check out, please. Vorrei fare il check out. Vorrei fare il check-out Could you call a taxi, please? Does the hotel provide a shuttle bus to the airport? Does the room have a bathtub? Can I get your confirmation number? Posso avere il numero della prenotazione? Posso avere il numero della prenotazione? Can I see your ID? Posso avere un documento di identità? Posso avere un documento di identità? Posso avere un documento di identità? Could you spell your last name, please? Potrebbe scandire il suo nome? Potrebbe scandire il suo nome? Potrebbe scandire il suo nome? How many nights will you be staying? Per quante notti soggiornerete? Per quante notti soggiornerete? Come è stato il vostro soggiorno? Come è stato il vostro soggiorno? Come è stato il vostro soggiorno? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli? Mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli? Mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli? Was everything satisfactory? È andato tutto bene? È andato tutto bene? È andato tutto bene? Volo nazionale A domestic flight Volo nazionale Volo nazionale Volo nazionale Volo nazionale An international flight Volo internazionale I would like to book a ticket to New York. Do you want a one-way ticket or a round-trip ticket? Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno? Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno? I book the ticket online. Ho prenotato il biglietto su internet. Ho prenotato il biglietto su internet. Ho prenotato il biglietto su internet. Is this a low-cost carrier? È una compagnia aerea low-cost. È una compagnia aerea low-cost. È una compagnia aerea low-cost. Is the ticket refundable? Il biglietto può essere restituito. 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 Quanto dura il volo? Quanto dura il volo? Quanto dura il volo? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Qual è il suo numero di prenotazione? Qual è il suo numero di prenotazione? Qual è il suo numero di prenotazione? Su quali linee devo viaggiare? Su quali linee devo viaggiare? Su quali linee devo viaggiare? Questo volo è in orario. Questo volo è in orario. Questo volo è in orario. Questo volo è in ritardo. Questo volo è in ritardo. Questo volo è in ritardo. Il volo è in ritardo. Si può salire a bordo. Si può salire a bordo. Si può salire a bordo. L'imbarco inizierà tra venti minuti. 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 Dov'è il banco del check-in della lott? 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 Mi dispiace. Il suo bagaglio pesa troppo. Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo. Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo. E' questo il suo bagaglio a mano? E' questo il suo bagaglio a mano? E' questo il suo bagaglio a mano? How many pieces of luggage do you have? Quanti bagagli ha? Quanti bagagli ha? Quanti bagagli ha? Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Dove sono i carrelli per i bagagli? Dove sono i carrelli per i bagagli? Dove sono i carrelli per i bagagli? I have a layover in Miami. Ho uno scalo a Miami. Ho uno scalo a Miami. Ho uno scalo a Miami. Qual'è la sua destinazione finale? Qual'è la sua destinazione finale? Qual'è il numero del suo volo? Qual'è il numero del suo volo? Qual'è il numero del suo volo? Qual'è la sua destinazione? Qual'è la sua destinazione? Qual'è la sua destinazione? Il suo volo parte dal gate 11C. Il suo volo parte dal gate 11C. Il suo volo parte dal gate 11C. Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Do you have anything to declare? Ha qualcosa da dichiarare? Svuoti tutte le tasche, per favore. Svuoti tutte le tasche, per favore. Svuoti tutte le tasche, per favore. Do you have any sharp items in this bag? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Metta la giacca nel contenitore, per favore. Metta la giacca nel contenitore, per favore. Metta la giacca nel contenitore, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Si tolga il laptop dalla custodia, per favore. Metta la giacca nel contenitore, per favore. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Smoking is prohibited for the duration of the flight. È vietato fumare durante tutto il volo. È vietato fumare durante tutto il volo. È vietato fumare durante tutto il volo. È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. Vi vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Signore, si sieda per favore. Controlli di avere la carta d'imbarco. Controlli di avere la carta d'imbarco. Controlli di avere la carta d'imbarco. Check-in online. Effettui il check-in online. Effettui il check-in online. What is the purpose of your stay? Qual è lo scopo del suo soggiorno? Qual è lo scopo del suo soggiorno? Dove andrà a soggiornare? Chi visiterà? Chi visiterà? Chi visiterà? Quanto tempo resterà? Quanto tempo resterà? Quanto tempo resterà? È qui per lavoro o per vacanza? È qui per lavoro o per vacanza? È qui per lavoro o per vacanza? I'd like to make an appointment to see the doctor. Grazie a tutti. Vorrei fissare un appuntamento con il medico. Vorrei fissare un appuntamento con il medico. Do you have an appointment? Ha un appuntamento? Ha un appuntamento? Ha un appuntamento? What is this appointment regarding? Di cosa tratta questa visita? Di cosa tratta questa visita? Di cosa tratta questa visita? Do you have health insurance? Ha un'assicurazione sanitaria? Ha un'assicurazione sanitaria? Ha un'assicurazione sanitaria? Si sieda, per favore. Si sieda, per favore. Si sieda, per favore. La sala d'attesa è a destra. La sala d'attesa è a destra. La sala d'attesa è a destra. Il dottore la riceverà ora. Il dottore la riceverà ora. Il dottore la riceverà ora. Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? What hurts? Cosa le fa male? Cosa le fa male? Può descrivere i sintomi? Può descrivere i sintomi? I have a backache. Ho mal di schiena. Ho mal di schiena. Ho mal di schiena. Ho la febbre. Ho la febbre. Ho la febbre. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. Mi gira la testa. Mi gira la testa. Mi gira la testa. I feel nauseous. Ho la nausea. Ho la nausea. Ho la nausea. Ho la nausea. mi gira la testa. Sono raffreddato. Sono raffreddato. l'acqua. Mi gira la testa. Mi gira la testa. Mi gira la testa. alta. I have the flu. Ho l'influenza. Ho l'influenza. Are you on any medication? Assume dei farmaci. Assume dei farmaci. Do you have any allergies? È allergico a qualcosa? È allergico a qualcosa? È allergico a qualcosa? Do you have a fever? Alla febbre. Alla febbre. Alla febbre. How long have you had these symptoms? Da quanto tempo ha questi sintomi? Da quanto tempo ha questi sintomi? Da quanto tempo ha questi sintomi? Ecco la sua prescrizione. Ecco la sua prescrizione. Ecco la sua prescrizione. I recommended bed rest. Raccomando il riposo a letto. Raccomando il riposo a letto. Devo prescrizione. I'll need to prescribe an antibiotic. Devo prescrivere un antibiotico. Devo prescrivere un antibiotico. Devo prescrivere un antibiotico. Devo prescrivere un antibiotico. Let me listen to your heart. Ascolterò il suo cuore. Ascolterò il suo cuore. Ascolterò il suo cuore. Let me take your blood pressure. Misurerò la sua pressione sanguigna. Misurerò la sua pressione sanguigna. Misurerò la sua pressione sanguigna. Let's take your temperature. Misureremo la temperatura. Misureremo la temperatura. Misureremo la temperatura. This requires surgery. Ciò richiede un intervento chirurgico. Ciò richiede un intervento chirurgico. We'll need to order a blood test. Dobbiamo ordinare un esame del sangue. Dobbiamo ordinare un esame del sangue. Dobbiamo ordinare un esame del sangue. Deve andare in ospedale. Non lo vedrete un ник di spiace. Deve andare in ospedale. Deve andare in ospedale. Your test results are in. Are my test results in yet? How long will I have to stay in the hospital? How long will I have to stay in the hospital? How long will I have to stay in the hospital? How long will I have to stay in the hospital? Devo rinnovare la mia prescrizione. 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 I would like a second opinion. Voglio l'opinione di un altro medico. Voglio l'opinione di un altro medico. What are the side effects? Quali sono gli effetti collaterali? 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 Quanto costa una stanza per una persona? Quanto costa una stanza per una persona? Quanto costa una stanza per una persona? La colazione è inclusa nel prezzo? La colazione è inclusa nel prezzo? La colazione è inclusa nel prezzo? Are pets allowed? Sono ammessi animali domestici? Sono ammessi animali domestici? Sono ammessi animali domestici? I have a reservation under the name of Kowalski. Ho una prenotazione a nome di Kowalski. Ho una prenotazione a nome di Kowalski. Ho una prenotazione a nome di Kowalski. Can I get a room with a sea view? Posso avere una camera a vista mare? Posso avere una camera a vista mare? Posso avere una camera a vista mare? Where can I find room number three? Dove posso trovare la camera numero tre? Dove posso trovare la camera numero tre? Dove posso trovare la camera numero tre? Quando viene servita la colazione? Dov'è l'ascensore? Is there free Wi-Fi access in the lobby? Can I have a wake-up call? Posso chiederle di essere svegliato? Posso chiederle di essere svegliato? Posso chiederle di essere svegliato? A chi ora devo effettuare il check-out? A chi ora devo effettuare il check-out? A chi ora devo effettuare il check-out? C'è il parcheggio in hotel? C'è il parcheggio in hotel? C'è il parcheggio in hotel? Do all the rooms have air conditioning? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Può compilare questo modulo di registrazione? Può compilare questo modulo di registrazione? Ecco la chiave della sua stanza. La sua stanza è al secondo piano. La sua stanza è al secondo piano. La sua stanza è al secondo piano. Could I have breakfast in my room, please? Posso fare colazione in camera? Posso fare colazione in camera? Posso fare colazione in camera? La colazione è dalle sette alle dieci. La colazione è dalle sette alle dieci. La colazione è dalle sette alle dieci. A che ora è aperto il bar? A che ora è aperto il bar? A che ora è aperto il bar? Would you like any help with your luggage? Vorrebbe aiuto con i bagagli? Vorrebbe aiuto con i bagagli? Vorrebbe aiuto con i bagagli? Enjoy your stay. Le auguriamo un piacevole soggiorno. Le auguriamo un piacevole soggiorno. Le auguriamo un piacevole soggiorno. Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Can you change my towel, please? Per favore, cambi il mio asciugamano. Per favore, cambi il mio asciugamano. Per favore, cambi il mio asciugamano. Vorrei un'altra stanza. Vorrei un'altra stanza. Vorrei un'altra stanza. La chiave della camera non funziona. La chiave della camera non funziona. La chiave della camera non funziona. The air conditioning doesn't work. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. Non c'è acqua calda. Non c'è acqua calda. Non c'è acqua calda. I would like to check out, please. Vorrei fare il check out. Vorrei fare il check out. Vorrei fare il check out. Could you call a taxi, please? Potrebbe chiamarmi un taxi. Does the hotel provide a shuttle bus to the airport? L'hotel fornisce il trasporto per l'aeroporto. Does the room have a bathtub? C'è una vasca da bagno in camera. C'è una vasca da bagno in camera. C'è una vasca da bagno in camera. Can I get your confirmation number? Posso avere il numero della prenotazione? Posso avere il numero della prenotazione? Posso avere il numero della prenotazione? Can I see your ID? Posso avere un documento d'identità? Posso avere un documento d'identità? Posso avere un documento d'identità? Could you spell your last name, please? How many nights will you be staying? Per quante notti soggiornerete? How is your stay? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Excuse me, could you help me with my luggage? Mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli? Mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli? Mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli? Was everything satisfactory? È andato tutto bene? È andato tutto bene? È andato tutto bene? A domestic flight Volo nazionale Volo nazionale Volo nazionale Volo nazionale I would like to book a ticket to New York An international flight Volo nazionale Volo nazionale Volo nazionale Vorrei prenotare un biglietto per New York. Do you want a one-way ticket or a round-trip ticket? Do you want a one-way ticket or a round-trip ticket? Do you want a one-way ticket or a round-trip ticket? Ho prenotato il biglietto su internet. Is this a low-cost carrier? È una compagnia aerea low-cost. È una compagnia aerea low-cost. È una compagnia aerea low-cost. Is the ticket refundable? Il biglietto può essere restituito. 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 Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Qual è il suo numero di prenotazione? 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 Su quali linee devo viaggiare? Su quali linee devo viaggiare? Questo volo è in orario. Questo volo è in orario. Questo volo è in ritardo. 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 Si può salire a bordo. Si può salire a bordo. Si può salire a bordo. L'imbarco inizierà tra 20 minuti. L'imbarco inizierà tra 20 minuti. L'imbarco inizierà tra 20 minuti. Dov'è il banco del check-in della lott? 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 Are you checking in any bags? Ha un bagaglio da stiva? Ha un bagaglio da stiva? Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo. Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo. È questo il suo bagaglio a mano? È questo il suo bagaglio a mano? È questo il suo bagaglio a mano? How many pieces of luggage do you have? Quanti bagagli ha? Quanti bagagli ha? Quanti bagagli ha? Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Dove sono i carrelli per i bagagli? Dove sono i carrelli per i bagagli? Dove sono i carrelli per i bagagli? I have a layover in Miami. Ho uno scalo a Miami. Ho uno scalo a Miami. Ho uno scalo a Miami. Qual è la sua destinazione finale? Qual è la sua destinazione finale? Qual è il numero del suo volo? 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 del suo volo? Qual è il numero del suo volo? Il suo volo parte dal gate 11C. Il suo volo parte dal gate 11C. Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Do you have anything to declare? Ha qualcosa da dichiarare? Ha qualcosa da dichiarare? Svuoti tutte le tasche, per favore. Svuoti tutte le tasche, per favore. Do you have any sharp items in this bag? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Metta la giacca nel contenitore, per favore. Metta la giacca nel contenitore, per favore. Metta la giacca nel contenitore, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Please take your laptop out of the bag. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Passenger Adam Smith, please proceed to gate 5. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Please have your boarding pass ready for boarding. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Smoking is prohibited for the duration of the flight. Quando la cuore di una для modulu seç этот。 Se prega di tenere a portata di monti make up a possibility. Si prega di tenere a portata di monti make up a numero 5. E' l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. E' l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. E' l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Sir, please sit down. The plane is taxiing. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Controlli di avere la carta d'imbarco. Controlli di avere la carta d'imbarco. Controlli di avere la carta d'imbarco. Check-in online. Effettui il check-in online. Effettui il check-in online. Effettui il check-in online. Qual è lo scopo del suo soggiorno? Qual è lo scopo del suo soggiorno? Qual è lo scopo del suo soggiorno? Dove andrà a soggiornare? Dove andrà a soggiornare? Dove andrà a soggiornare? Who will you be visiting? Chi visiterà? Chi visiterà? Chi visiterà? How long do you intend to stay? Quanto tempo resterà? Quanto tempo resterà? Quanto tempo resterà? È qui per lavoro o per vacanza? È qui per lavoro o per vacanza? È qui per lavoro o per vacanza? Vorrei fissare un appuntamento con il medico. Vorrei fissare un appuntamento con il medico. Vorrei fissare un appuntamento con il medico. Do you have an appointment? Ha un appuntamento? Ha un appuntamento? Ha un appuntamento? Di cosa tratta questa visita? Di cosa tratta questa visita? Di cosa tratta questa visita? Do you have health insurance? Ha un'assicurazione sanitaria? Si sieda, per favore. La sala d'attesa è a destra. 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 Il dottore la riceverà ora. Il dottore la riceverà ora. Il dottore la riceverà ora. Che succede? Che succede? Che succede? Cosa le fa male? Cosa le fa male? Cosa le fa male? Cosa le fa male? Può descrivere i sintomi? Può descrivere i sintomi? Ho mal di schiena. Ho mal di schiena. Ho mal di schiena. Ho la febbre. Ho la febbre. Ho la febbre. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. Mi gira la testa. 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 Si c'è un raffreddore. Ho la nausea. Ho la nausea. Sono raffreddato. Sono raffreddato. I have high blood pressure. Ho la pressione alta. Ho la pressione alta. Ho la pressione alta. I have the flu. Ho l'influenza. Ho l'influenza. Ho l'influenza. Are you on any medication? Assume dei farmaci. Assume dei farmaci. Assume dei farmaci. Do you have any allergies? È allergico a qualcosa? È allergico a qualcosa? Do you have a fever? Ha la febbre? Ha la febbre? Ha la febbre? How long have you had these symptoms? Da quanto tempo ha questi sintomi? Da quanto tempo ha questi sintomi? Da quanto tempo ha questi sintomi? Ecco la sua prescrizione. Ecco la sua prescrizione. Ecco la sua prescrizione. Raccomando il riposo a letto. Raccomando il riposo a letto. Raccomando il riposo a letto. I'll need to prescribe an antibiotic. Devo prescrivere un antibiotico. Devo prescrivere un antibiotico. Devo prescrivere un antibiotico. Ascolterò il suo cuore. Ascolterò il suo cuore. Ascolterò il suo cuore. Misurerò la sua pressione sanguigna. Misurerò la sua pressione sanguigna. Misurerò la sua pressione sanguigna. Let's take your temperature. Misureremo la temperatura. Misureremo la temperatura. Misureremo la temperatura. Ciò richiede un intervento chirurgico. Ciò richiede un intervento chirurgico. Ciò richiede un intervento chirurgico. Dobbiamo ordinare un esame del sangue. 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 You need to be hospitalized. Deve andare in ospedale. Deve andare in ospedale. Deve andare in ospedale. Your test results are in. Abbiamo i risultati dei suoi esami. Abbiamo i risultati dei suoi esami. Sono già disponibili i risultati dei miei esami? Sono già disponibili i risultati dei miei esami? Sono già disponibili i risultati dei miei esami? Quanto tempo dovrò rimanere in ospedale? Quanto tempo dovrò rimanere in ospedale? Quanto tempo dovrò rimanere in ospedale? I'm not feeling well. Mi sento male. Mi sento male. Mi sento male. Devo rinnovare la mia prescrizione. Devo rinnovare la mia prescrizione. Devo rinnovare la mia prescrizione. Voglio l'opinione di un altro medico. Voglio l'opinione di un altro medico. Voglio l'opinione di un altro medico. Quali sono gli effetti collaterali? Quali sono gli effetti collaterali? Quali sono gli effetti collaterali? Qual è la mia prognosi? Qual è la mia prognosi? Qual è la mia prognosi? Quanto costa una stanza per una persona? Quanto costa una stanza per una persona? Quanto costa una stanza per una persona? La colazione è inclusa nel prezzo. La colazione è inclusa nel prezzo. La colazione è inclusa nel prezzo. Sono ammessi animali domestici? Sono ammessi animali domestici? I have a reservation under the name of Kowalski. Ho una prenotazione a nome di Kowalski. Can I get a room with a sea view? Posso avere una camera vista mare? Posso avere una camera vista mare? Posso avere una camera vista mare? Where can I find room number three? Dove posso trovare la camera numero tre? Dove posso trovare la camera numero tre? Dove posso trovare la camera numero tre? Quando viene servita la colazione? Quando viene servita la colazione? Quando viene servita la colazione? Dov'è l'ascensore? Dov'è l'ascensore? Dov'è l'ascensore? Is there free Wi-Fi access in the lobby? Can I have a wake-up call? Posso chiederle di essere svegliato? Posso chiederle di essere svegliato? Posso chiederle di essere svegliato? A chi ora devo effettuare il check-out? A chi ora devo effettuare il check-out? A che ora devo effettuare il check-out? Do you have parking facilities? C'è il parcheggio in hotel? C'è il parcheggio in hotel? C'è il parcheggio in hotel? Do all the rooms have air conditioning? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Può compilare questo modulo di registrazione? Può compilare questo modulo di registrazione? Può compilare questo modulo di registrazione? Here's your room key. Ecco la chiave della sua stanza. Ecco la chiave della sua stanza. Ecco la chiave della sua stanza. La sua stanza è al secondo piano. La sua stanza è al secondo piano. La sua stanza è al secondo piano. Could I have breakfast in my room, please? Posso fare colazione in camera? Posso fare colazione in camera? Posso fare colazione in camera? La colazione è dalle sette alle dieci. La colazione è dalle sette alle dieci. La colazione è dalle sette alle dieci. A che ora è aperto il bar? A che ora è aperto il bar? Would you like any help with your luggage? Vorrebbe aiuto con i bagagli? Enjoy your stay. Le auguriamo un piacevole soggiorno. Le auguriamo un piacevole soggiorno. Le auguriamo un piacevole soggiorno. Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Can you change my towel, please? Per favore, cambi il mio asciugamano. Per favore, cambi il mio asciugamano. Per favore, cambi il mio asciugamano. Vorrei un'altra stanza. Vorrei un'altra stanza. Vorrei un'altra stanza. La chiave della camera non funziona. La chiave della camera non funziona. La chiave della camera non funziona. The air conditioning doesn't work. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. Non c'è acqua calda. Non c'è acqua calda. Non c'è acqua calda. Vorrei fare il check-out, please. Vorrei fare il check-out. Vorrei fare il check-out. Vorrei fare il check-out. Could you call a taxi, please? Potrebbe chiamarmi un taxi? Potrebbe chiamarmi un taxi? Potrebbe chiamarmi un taxi? L'hotel fornisce il trasporto per l'aeroporto. L'hotel fornisce il trasporto per l'aeroporto. L'hotel fornisce il trasporto per l'aeroporto. Does the room have a bathtub? C'è una vasca da bagno in camera. C'è una vasca da bagno in camera. C'è una vasca da bagno in camera. Can I get your confirmation number? Posso avere il numero della prenotazione? Posso avere il numero della prenotazione? Posso avere il numero della prenotazione? Can I see your ID? Posso avere un documento di identità? Posso avere un documento di identità? Posso avere un documento di identità? Potrebbe scandire il suo nome? Potrebbe scandire il suo nome? Potrebbe scandire il suo nome? How many nights will you be staying? Per quante notti soggiornerete? Per quante notti soggiornerete? Per quante notti soggiornerete? Com'è stato il vostro soggiorno? Com'è stato il vostro soggiorno? Com'è stato il vostro soggiorno? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli? Mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli? Mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli? Was everything satisfactory? È andato tutto bene? È andato tutto bene? È andato tutto bene? A domestic flight Volo nazionale Volo nazionale Volo nazionale An international flight Volo internazionale I would like to book a ticket to New York Vorrei prenotare un biglietto per New York Vorrei prenotare un biglietto per New York Vorrei prenotare un biglietto per New York Do you want a one-way ticket or a round-trip ticket? Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno? Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno? Desidera un biglietto per New York Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno? I book the ticket online Ho prenotato il biglietto su internet Ho prenotato il biglietto su internet Ho prenotato il biglietto su internet Is this a low-cost carrier? È una compagnia aerea low-cost È una compagnia aerea low-cost È una compagnia aerea low-cost Is the ticket refundable? Il biglietto può essere restituito? Il biglietto può essere restituito? Il biglietto può essere restituito? How long does the flight take? Quanto dura il volo? Quanto dura il volo? Quanto dura il volo? How much is a round-trip ticket? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Qual è il suo numero di prenotazione? Qual è il suo numero di prenotazione? Qual è il suo numero di prenotazione? Su quali linee devo viaggiare? Su quali linee devo viaggiare? Su quali linee devo viaggiare? questo volo è in orario? Questo volo è in orario Questo volo è in orario? Questo volo è in ritardo Questo volo è in ritardo Questo volo è in ritardo Si può salire a bordo Si può salire a bordo Si può salire a bordo L'imbarco inizierà tra venti minuti L'imbarco inizierà tra venti minuti L'imbarco inizierà tra venti minuti Dov'è il banco del check-in della lotta? Dov'è il banco del check-in della lotta? Dov'è il banco del check-in della lotta? Are you checking in any bags? Ha un bagaglio da stiva? Ha un bagaglio da stiva? Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo 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 È questo il suo bagaglio a mano? È questo il suo bagaglio a mano? How many pieces of luggage do you have? Quanti bagagli ha? Quanti bagagli ha? Quanti bagagli ha? Metta i bagagli sulla bilancia per favore Metta i bagagli sulla bilancia per favore Metta i bagagli sulla bilancia per favore Dove sono i carrelli per i bagagli? Dove sono i carrelli per i bagagli? Dove sono i carrelli per i bagagli? I have a layover in Miami Ho uno scano a Miami Ho uno scano a Miami Ho uno scano a Miami Qual è la sua destinazione finale? Qual è la sua destinazione finale? Qual è il numero del suo volo? 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 Qual è la sua destinazione? 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 Qual è il numero del suo volo? Qual è il suo volo? Qual è la sua destinazione? Qual è la sua destinazione? Ha degli apparecchi elettronici nella valigia. Ha qualcosa da dichiarare? Svuoti tutte le tasche, per favore. Svuoti tutte le tasche, per favore. Svuoti tutte le tasche, per favore. Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Metta la giacca nel contenitore, per favore. Metta la giacca nel contenitore, per favore. Metta la giacca nel contenitore, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. È vietato fumare durante tutto il volo. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. È vietato fumare durante tutto il volo. È vietato fumare durante tutto il volo. È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. 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 Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Controlli di avere la carta d'imbarco. Controlli di avere la carta d'imbarco. Check-in online. Effettui il check-in online. Effettui il check-in online. Qual è lo scopo del suo soggiorno? Qual è lo scopo del suo soggiorno? Qual è lo scopo del suo soggiorno? Dove andrà a soggiornare? Dove andrà a soggiornare? Dove andrà a soggiornare? Chi visiterà? Chi visiterà? Chi visiterà? Quanto tempo resterà? Quanto tempo resterà? Quanto tempo resterà? È qui per lavoro o per vacanza? È qui per lavoro o per vacanza? È qui per lavoro o per vacanza? I'd like to make an appointment to see the doctor. Vorrei fissare un appuntamento con il medico. Vorrei fissare un appuntamento con il medico. Do you have an appointment? Ha un appuntamento? Ha un appuntamento? Di cosa tratta questa visita? Do you have health insurance? Ha un assicurazione sanitaria? Ha un assicurazione sanitaria? Ha un assicurazione sanitaria? Please, take a seat. Si sieda, per favore. Si sieda, per favore. Si sieda, per favore. La sala d'attesa è a destra. La sala d'attesa è a destra. La sala d'attesa è a destra. Il dottore la riceverà ora. Il dottore la riceverà ora. Il dottore la riceverà ora. Cosa le fa male? Cosa le fa male? Può descrivere i sintomi? Può descrivere i sintomi? Ho mal di schiena. Ho mal di schiena. Ho mal di schiena. Ho la febbre. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. Mi gira la testa. Mi gira la testa. Mi gira la testa. Ho la nausea. Ho la nausea. Sono raffreddato. Ho la pressione alta. Ho la pressione alta. Ho l'influenza. Ho l'influenza. Ho l'influenza. Assume dei farmaci. Assume dei farmaci. Assume dei farmaci. Do you have any allergies? È allergico a qualcosa? È allergico a qualcosa? È allergico a qualcosa? Do you have a fever? Alla febbre. Alla febbre. How long have you had these symptoms? Da quanto tempo ha questi sintomi? Da quanto tempo ha questi sintomi? Da quanto tempo ha questi sintomi? Ecco la sua prescrizione. Ecco la sua prescrizione. Ecco la sua prescrizione. I recommended bed rest. Raccomando il riposo a letto. Raccomando il riposo a letto. Raccomando il riposo a letto. I'll need to prescribe an antibiotic. Devo prescrivere un antibiotic. Devo prescrivere un antibiotico. Let me listen to your heart. Ascolterò il suo cuore. Ascolterò il suo cuore. Misurerò la sua pressione sanguigna. 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 Ciò richiede un intervento chirurgico. Ciò richiede un intervento chirurgico. We'll need to order a blood test. Dobbiamo ordinare un esame del sangue. Dobbiamo ordinare un esame del sangue. Dobbiamo ordinare un esame del sangue. Deve andare in ospitale. Deve andare in ospedale. Deve andare in ospedale. Abbiamo i risultati dei suoi esami. Abbiamo i risultati dei suoi esami. Abbiamo i risultati dei suoi esami. Sono già disponibili i risultati dei miei esami? Sono già disponibili i risultati dei miei esami? Sono già disponibili i risultati dei miei esami? Quanto tempo dovrò rimanere in ospedale? Quanto tempo dovrò rimanere in ospedale? Quanto tempo dovrò rimanere in ospedale? Mi sento male. Mi sento male. Mi sento male. Mi sento male. Devo rinnovare la mia prescrizione. Devo rinnovare la mia prescrizione. Devo rinnovare la mia prescrizione. Voglio l'opinione di un altro medico. Voglio l'opinione di un altro medico. Voglio l'opinione di un altro medico. Quali sono gli effetti collaterali? Quali sono gli effetti collaterali? Quali sono gli effetti collaterali? Qual è la mia prognosi? Qual è la mia prognosi? Qual è la mia prognosi? Quanto costa una stanza per una persona? Quanto costa una stanza per una persona? Quanto costa una stanza per una persona? Is breakfast included? La colazione è inclusa nel prezzo. La colazione è inclusa nel prezzo. Sono ammessi animali domestici? Sono ammessi animali domestici? Sono ammessi animali domestici? I have a reservation under the name of Kowalski. Ho una prenotazione a nome di Kowalski. Ho una prenotazione a nome di Kowalski. Ho una prenotazione a nome di Kowalski. Can I get a room with a sea view? Posso avere una camera a vista mare? Posso avere una camera a vista mare? Posso avere una camera a vista mare? Dove posso trovare la camera numero tre? Dove posso trovare la camera numero tre? Dove posso trovare la camera numero tre? Quando viene servita la colazione? Quando viene servita la colazione? Quando viene servita la colazione? Dov'è l'ascensore? Dov'è l'ascensore? Dov'è l'ascensore? Is there free Wi-Fi access in the lobby? C'è la connessione Wi-Fi gratuita nell'ingresso? C'è la connessione Wi-Fi gratuita nell'ingresso? C'è la connessione Wi-Fi gratuita nell'ingresso? Can I have a wake-up call? Posso chiederle di essere svegliato? Posso chiederle di essere svegliato? Posso chiederle di essere svegliato? A che ora devo effettuare il check-out? A che ora devo effettuare il check-out? A che ora devo effettuare il check-out? Do you have parking facilities? C'è il parcheggio in hotel? C'è il parcheggio in hotel? C'è il parcheggio in hotel? Do all the rooms have air conditioning? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Può compilare questo modulo di registrazione? Può compilare questo modulo di registrazione? Può compilare questo modulo di registrazione? Ecco la chiave della sua stanza. Ecco la chiave della sua stanza. Ecco la chiave della sua stanza. La sua stanza è al secondo piano. 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 A che ora è aperto il bar? Would you like any help with your luggage? Enjoy your stay. Le auguriamo un piacevole soggiorno. Would you please clean my room? Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Can you change my towel, please? Per favore, cambi il mio asciugamano. Per favore, cambi il mio asciugamano. Per favore, cambi il mio asciugamano. Vorrei un'altra stanza. Vorrei un'altra stanza. Vorrei un'altra stanza. La chiave della camera non funziona. La chiave della camera non funziona. La chiave della camera non funziona. The air conditioning doesn't work. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. Non c'è acqua calda. Non c'è acqua calda. Non c'è acqua calda. I would like to check out, please. Vorrei fare il check out. Vorrei fare il check out. Could you call a taxi, please? Potrebbe chiamarmi un taxi? Potrebbe chiamarmi un taxi? Potrebbe chiamarmi un taxi? Potrebbe chiamarmi un taxi? Does the hotel provide a shuttle bus to the airport? L'hotel fornisce il trasporto per l'aeroporto. L'hotel fornisce il trasporto per l'aeroporto. L'hotel fornisce il trasporto per l'aeroporto. C'è una vasca da bagno in camera. C'è una vasca da bagno in camera. C'è una vasca da bagno in camera. Can I get your confirmation number? Posso avere il numero della prenotazione? Posso avere il numero della prenotazione? Posso avere il numero della prenotazione? Can I see your ID? Posso avere un documento di identità? Posso avere un documento di identità? Posso avere un documento di identità? Could you spell your last name, please? Potrebbe scandire il suo nome? Potrebbe scandire il suo nome? Potrebbe scandire il suo nome? Per quante notti soggiornerete? Per quante notti soggiornerete? Per quante notti soggiornerete? Come è stato il vostro soggiorno? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Excuse me, could you help me with my luggage? Was everything satisfactory? E' andato tutto bene? E' andato tutto bene? E' andato tutto bene? A domestic flight. Volo nazionale. Volo nazionale. Volo nazionale. An international flight. Volo internazionale. Volo internazionale. Volo internazionale. Vorrei prenotare un biglietto per New York. Vorrei prenotare un biglietto per New York. Do you want a one-way ticket or a round-trip ticket? Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno? Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno? Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno? Ho prenotato il biglietto su internet. Ho prenotato il biglietto su internet. Ho prenotato il biglietto su internet. Is this a low-cost carrier? È una compagnia aerea low-cost. È una compagnia aerea low-cost. È una compagnia aerea low-cost. Is the ticket refundable? Il biglietto può essere restituito. Il biglietto può essere restituito. Il biglietto può essere restituito. How long does the flight take? Quanto dura il volo? Quanto dura il volo? Quanto dura il volo? How much is a round-trip ticket? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Qual è il suo numero di prenotazione? Qual è il suo numero di prenotazione? Qual è il suo numero di prenotazione? Which airline should I fly with? Su quali linee devo viaggiare? Su quali linee devo viaggiare? Quisto volo è in orario? Is the flight on time? Questo volo è in orario? Questo volo è in orario? Questo volo è in ritardo. Questo volo è in ritardo. Questo volo è in ritardo. Si può salire a bordo. Si può salire a bordo. Si può salire a bordo. L'imbarco inizierà tra venti minuti. L'imbarco inizierà tra venti minuti. L'imbarco inizierà tra venti minuti. Dov'è il banco del check-in della lotta? Dov'è il banco del check-in della lotta? Dov'è il banco del check-in della lotta? Are you checking in any bags? Ha un bagaglio da stiva. Ha un bagaglio da stiva. Ha un bagaglio da stiva. Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo. Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo. Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo. È questo il suo bagaglio da stiva. È questo il suo bagaglio a mano? È questo il suo bagaglio a mano? È questo il suo bagaglio a mano? How many pieces of luggage do you have? Quanti bagagli ha? Quanti bagagli ha? Quanti bagagli ha? Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Dove sono i carrelli per i bagagli? Dove sono i carrelli per i bagagli? Dove sono i carrelli per i bagagli? I have a layover in Miami. Ho uno scalo a Miami. Ho uno scalo a Miami. Ho uno scalo a Miami. Qual è la sua destinazione finale? Qual è la sua destinazione finale? Qual è la sua destinazione finale? Qual è il numero del suo volo? Qual è il numero del suo volo? Qual è il numero del suo volo? Qual è la sua destinazione finale? Qual è la sua destinazione? Qual è la sua destinazione? Il suo volo parte dal gate 11C. Il suo volo parte dal gate 11C. Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Ha qualcosa da dichiarare? Ha qualcosa da dichiarare? Ha qualcosa da dichiarare? Svuoti tutte le tasche, per favore. Svuoti tutte le tasche, per favore. Do you have any sharp items in this bag? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Metta la giacca nel contenitore, per favore. Metta la giacca nel contenitore, per favore. Metta la giacca nel contenitore, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Metta la giacca nel contenitore, per favore. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco. Smoking is prohibited for the duration of the flight. È vietato fumare durante tutto il volo. È vietato fumare durante tutto il volo. È vietato fumare durante tutto il volo. È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. We would like to invite all passengers to board now. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Controlli di avere la carta d'imbarco. Controlli di avere la carta d'imbarco. Controlli di avere la carta d'imbarco. Check-in online. Effettui il check-in online. Effettui il check-in online. Qual è lo scopo del suo soggiorno? Qual è lo scopo del suo soggiorno? Dove andrà a soggiornare? Chi visiterà? Chi visiterà? Chi visiterà? Quanto tempo resterà? Quanto tempo resterà? Quanto tempo resterà? È qui per lavoro o per vacanza? È qui per lavoro o per vacanza? È qui per lavoro o per vacanza? I'd like to make an appointment to see the doctor. Vorrei fissare un appuntamento con il medico. Vorrei fissare un appuntamento con il medico. Vorrei fissare un appuntamento con il medico. Ha un appuntamento? Ha un appuntamento? Ha un appuntamento? Di cosa tratta questa visita? Di cosa tratta questa visita? Do you have health insurance? Ha un assicurazione sanitaria? 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 Si sieda, per favore? La sala d'attesa è a destra. La sala d'attesa è a destra. Il dottore la riceverà ora. Il dottore la riceverà ora. Il dottore la riceverà ora. Che succede? Che succede? Che succede? Cosa le fa male? Cosa le fa male? Cosa le fa male? Può descrivere i sintomi? Può descrivere i sintomi? Può descrivere i sintomi? Ho mal di schiena. Ho mal di schiena. Ho mal di schiena. Ho la febbre. Ho la febbre. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. Mi gira la testa. Mi gira la testa. Mi gira la testa. Ho la nausea. Ho la nausea. Ho la nausea. Ho la nausea. Sono raffreddore. Sono raffreddato. Sono raffreddato. Sono raffreddato. I have high blood pressure. Ho la pressione alta. Ho la pressione alta. Ho la pressione alta. Ho l'influenza. Ho l'influenza. Ho l'influenza. Ho l'influenza. Ho l'influenza. Are you on any medication? Assume dei farmaci. Assume dei farmaci. Assume dei farmaci. Do you have any allergies? Do you have a fever? Alla febbre? Alla febbre? Alla febbre? How long have you had these symptoms? Da quanto tempo ha questi sintomi? Da quanto tempo ha questi sintomi? Da quanto tempo ha questi sintomi? Ecco la sua prescrizione. Ecco la sua prescrizione. Ecco la sua prescrizione. Raccomando il riposo a letto. Raccomando il riposo a letto. Raccomando il riposo a letto. Devo prescrivere un antibiotico. Devo prescrivere un antibiotico. Devo prescrivere un antibiotico. Ascolterò il suo cuore. Ascolterò il suo cuore. Ascolterò il suo cuore. Let me take your blood pressure. Misurerò la sua pressione sanguigna. Misurerò la sua pressione sanguigna. Misurerò la sua pressione sanguigna. Let's take your temperature. Misureremo la temperatura. Misureremo la temperatura. Misureremo la temperatura. This requires surgery. Ciò richiede un intervento chirurgico. Ciò richiede un intervento chirurgico. Dobbiamo ordinare un esame del sangue. Dobbiamo ordinare un esame del sangue. Dobbiamo ordinare un esame del sangue. You need to be hospitalized. Deve andare in ospedale. Deve andare in ospedale. Deve andare in ospedale. Your test results are in. Abbiamo i risultati dei suoi esami. Abbiamo i risultati dei suoi esami. Abbiamo i risultati dei suoi esami. Sono già disponibili i risultati dei miei esami? Sono già disponibili i risultati dei miei esami? Sono già disponibili i risultati dei miei esami? Quanto tempo dovrò rimanere in ospedale? Quanto tempo dovrò rimanere in ospedale? Quanto tempo dovrò rimanere in ospedale? I'm not feeling well. Mi sento male. Mi sento male. Mi sento male. Devo rinnovare la mia prescrizione. Devo rinnovare la mia prescrizione. Devo rinnovare la mia prescrizione. I would like a second opinion. Voglio l'opinione di un altro medico. Voglio l'opinione di un altro medico. Voglio l'opinione di un altro medico. Quali sono gli effetti collaterali? Quali sono gli effetti collaterali? Quali sono gli effetti collaterali? Qual è la mia prognosi? Qual è la mia prognosi? Qual è la mia prognosi? Quanto costa una stanza per una persona? Quanto costa una stanza per una persona? Quanto costa una stanza per una persona? Is breakfast included? La colazione è inclusa nel prezzo. Are pets allowed? Sono ammessi animali domestici? Sono ammessi animali domestici? I have a reservation under the name of Kowalski. Ho una prenotazione a nome di Kowalski. Ho una prenotazione a nome di Kowalski. Ho una prenotazione a nome di Kowalski. Can I get a room with a sea view? Posso avere una camera vista mare? Posso avere una camera vista mare? Posso avere una camera vista mare? Dove posso trovare la camera numero tre? Dove posso trovare la camera numero tre? Dove posso trovare la camera numero tre? Dove posso trovare la camera? Dove posso trovare la camera? Quando viene servita la colazione? Dove è l'ascensore? Dove è l'ascensore? Dove è l'ascensore? C'è la connessione wifi gratuita nell'ingresso? C'è la connessione wifi gratuita nell'ingresso? C'è la connessione wifi gratuita nell'ingresso? Can I have a wake-up call? Posso chiederle di essere svegliato? Posso chiederle di essere svegliato? Posso chiederle di essere svegliato? A che ora devo effettuare il check-out? A che ora devo effettuare il check-out? A che ora devo effettuare il check-out? Do you have parking facilities? C'è il parcheggio in hotel? C'è il parcheggio in hotel? C'è il parcheggio in hotel? Do all the rooms have air conditioning? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Può compilare questo modulo di registrazione? Può compilare questo modulo di registrazione? Può compilare questo modulo di registrazione? Ecco la chiave della sua stanza. Ecco la chiave della sua stanza. Ecco la chiave della sua stanza. La sua stanza è al secondo piano. La sua stanza è al secondo piano. La sua stanza è al secondo piano. Could I have breakfast in my room, please? Posso fare colazione in camera? Posso fare colazione in camera? Posso fare colazione in camera? Breakfast from 7 a.m. till 10 a.m. La colazione è dalle 7 alle 10. La colazione è dalle 7 alle 10. La colazione è dalle 7 alle 10. A che ora è aperto il bar? A che ora è aperto il bar? Would you like any help with your luggage? Vorrebbe aiuto con i bagagli? Vorrebbe aiuto con i bagagli? Vorrebbe aiuto con i bagagli? Enjoy your stay. Le auguriamo un piacevole soggiorno. Le auguriamo un piacevole soggiorno. Le auguriamo un piacevole soggiorno. Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Per favore, cambi il mio asciugamano. Per favore, cambi il mio asciugamano. vorrei un'altra stanza, per favore. Vorrei un'altra stanza. Vorrei un'altra stanza. La chiave della camera non funziona. La chiave della camera non funziona. La chiave della camera non funziona. The air conditioning doesn't work. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. There is no hot water. I would like to check out, please. Vorrei fare il check out. Vorrei fare il check out. Vorrei fare il check out. Could you call a taxi, please? Potrebbe chiamarmi un taxi. Potrebbe chiamarmi un taxi. Potrebbe chiamarmi un taxi. L'hotel fornisce il trasporto per l'aeroporto. L'hotel fornisce il trasporto per l'aeroporto. C'è una vasca da bagno in camera. C'è una vasca da bagno in camera. C'è una vasca da bagno in camera. Can I get your confirmation number? Posso avere il numero della prenotazione? Posso avere il numero della prenotazione? Posso avere il numero della prenotazione? Posso avere un documento d'identità? Posso avere un documento d'identità? Posso avere un documento d'identità? Could you spell your last name, please? Potrebbe scandire il suo nome? Potrebbe scandire il suo nome? Potrebbe scandire il suo nome? How many nights will you be staying? Per quante notti soggiornerete? Per quante notti soggiornerete? Per quante notti soggiornerete? How is your stay? Come è stato il vostro soggiorno? Come è stato il vostro soggiorno? Come è stato il vostro soggiorno? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli? Mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli? Mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli? E' andato tutto bene? E' andato tutto bene? Volo nazionale. Volo nazionale. Volo internazionale. Volo internazionale. Volo internazionale. Vorrei prenotare un biglietto per New York. Vorrei prenotare un biglietto per New York. Vorrei prenotare un biglietto per New York. Do you want a one-way ticket or a round-trip ticket? Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno? Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno? Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno? Ho prenotato il biglietto su internet. 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 È una compagnia aerea low cost. 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 È una compaglia aerea low cost. Quanto dura il volo? Quanto dura il volo? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Qual è il suo numero di prenotazione? Qual è il suo numero di prenotazione? Qual è il suo numero di prenotazione? Su quali linee devo viaggiare? Su quali linee devo viaggiare? Su quali linee devo viaggiare? Quisto volo è in orario? Questo volo è in orario? Questo volo è in orario? Questo volo è in ritardo Questo volo è in ritardo Questo volo è in ritardo Si può salire a bordo Si può salire a bordo Si può salire a bordo L'imbarco inizierà tra 20 minuti L'imbarco inizierà tra 20 minuti L'imbarco inizierà tra 20 minuti Dov'è il banco del check-in della lotta? Dov'è il banco del check-in della lotta? Dov'è il banco del check-in della lotta? Are you checking in any bags? Ha un bagaglio da stiva? Ha un bagaglio da stiva? Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo È questo il suo bagaglio a mano? È questo il suo bagaglio a mano? È questo il suo bagaglio a mano? How many pieces of luggage do you have? Quanti bagagli ha? Quanti bagagli ha? Quanti bagagli ha? Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Dove sono i carrelli per i bagagli? I have a layover in Miami. I have a layover in Miami. I have a layover in Miami. Qual è la sua destinazione finale? Qual è la sua destinazione finale? Qual è la sua destinazione finale? Qual è il numero del suo volo? Qual è il numero del suo volo? Qual è il numero del suo volo? Qual è la sua destinazione? Qual è la sua destinazione? Qual è la sua destinazione? Il suo volo parte dal gate 11C. Il suo volo parte dal gate 11C. Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Do you have anything to declare? Ha qualcosa da dichiarare? Ha qualcosa da dichiarare? Svuoti tutte le tasche, per favore. 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 Do you have any sharp items in this bag? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Metta la giacca nel contenitore, per favore. Metta la giacca nel contenitore, per favore. Metta la giacca nel contenitore, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. è vietato fumare durante tutto il volo. E' vietato fumare durante tutto il volo. E' l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. E' l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. E' l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Controlli di avere la carta d'imbarco. Controlli di avere la carta d'imbarco. Controlli di avere la carta d'imbarco. Check-in online. Effettui il check-in online. Effettui il check-in online. Effettui il check-in online. Qual è lo scopo del suo soggiorno? Qual è lo scopo del suo soggiorno? Qual è lo scopo del suo soggiorno? Dove andrà a soggiornare? Dove andrà a soggiornare? Dove andrà a soggiornare? Chi visiterà? Chi visiterà? Chi visiterà? How long do you intend to stay? Quanto tempo resterà? Quanto tempo resterà? Quanto tempo resterà? Are you here for business or pleasure? È qui per lavoro o per vacanza? È qui per lavoro o per vacanza? È qui per lavoro o per vacanza? I'd like to make an appointment to see the doctor. Vorrei fissare un appuntamento con il medico. Vorrei fissare un appuntamento con il medico. Do you have an appointment? Ha un appuntamento? Ha un appuntamento? Ha un appuntamento? What is this appointment regarding? Di cosa tratta questa visita? Di cosa tratta questa visita? Di cosa tratta questa visita? Do you have health insurance? Ha un'assicurazione sanitaria? Ha un'assicurazione sanitaria? Ha un'assicurazione sanitaria? Si sieda, per favore. Si sieda, per favore. Si sieda, per favore. La sala d'attesa è a destra. La sala d'attesa è a destra. La sala d'attesa è a destra. Il dottore la riceverà ora. Il dottore la riceverà ora. Il dottore la riceverà ora. Che succede? Che succede? Che succede? cosa le fa male? Cosa le fa male? Cosa le fa male? Cosa le fa male? Può descrivere i sintomi? Può descrivere i sintomi? Ho mal di schiena. Ho mal di schiena. Ho mal di schiena. Ho la febbre. Ho la febbre. Ho la febbre. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. Mi gira la testa. Mi gira la testa. Mi gira la testa. I feel nauseous. Ho la nausea. Ho la nausea. Ho la nausea. Io ho il raffreddore. Sono raffreddato. Sono raffreddato. Sono raffreddato. I have high blood pressure. Ho la pressione alta. Ho la pressione alta. Ho la pressione alta. I have the flu. Ho l'influenza. Ho l'influenza. Ho l'influenza. Are you on any medication? Assume dei farmaci. Assume dei farmaci. Assume dei farmaci. Do you have any allergies? È allergico a qualcosa? È allergico a qualcosa? È allergico a qualcosa? Do you have a fever? Ha la febbre? Ha la febbre? Ha la febbre? How long have you had these symptoms? Da quanto tempo ha questi sintomi? Da quanto tempo ha questi sintomi? Da quanto tempo ha questi sintomi? Ecco la sua prescrizione. Ecco la sua prescrizione. Ecco la sua prescrizione. Raccomando il riposo a letto. Raccomando il riposo a letto. Raccomando il riposo a letto. Devo prescrivere un antibiotico. Devo prescrivere un antibiotico. Devo prescrivere un antibiotico. Ascolterò il suo cuore. Ascolterò il suo cuore. Ascolterò il suo cuore. Let me take your blood pressure. Misurerò la sua pressione sanguigna. Misurerò la sua pressione sanguigna. Misurerò la sua pressione sanguigna. Let's take your temperature. Misureremo la temperatura. Misureremo la temperatura. Misureremo la temperatura. Misureremo la temperatura. Ciò richiede un intervento chirurgico. Ciò richiede un intervento chirurgico. Dobbiamo ordinare un esame del sangue. Dobbiamo ordinare un esame del sangue. Dobbiamo ordinare un esame del sangue. Dove andare in ospedale. Deve andare in ospedale. Dove andare in ospedale. Your test results are in. Are my test results in yet? How long will I have to stay in the hospital? How long will I have to stay in the hospital? How long will I have to stay in the hospital? Devo rinnovare la mia prescrizione. 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 I would like a second opinion. Voglio l'opinione di un altro medico. Voglio l'opinione di un altro medico. What are the side effects? Quali sono gli effetti collaterali? 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 Quanto costa una stanza per una persona? Quanto costa una stanza per una persona? Is breakfast included? La colazione è inclusa nel prezzo. Are pets allowed? Sono ammessi animali domestici? I have a reservation under the name of Kowalski. Ho una prenotazione a nome di Kowalski. Ho una prenotazione a nome di Kowalski. Can I get a room with a sea view? Posso avere una camera vista mare? Posso avere una camera vista mare? Posso avere una camera vista mare? Dove posso trovare la camera numero 3? Dove posso trovare la camera numero 3? Dove posso trovare la camera numero 3? Quando viene servita la colazione? Quando viene servita la colazione? Dove è l'ascensore? Dove è l'ascensore? Dove è l'ascensore? Is there free wifi access in the lobby? C'è la connessione wifi gratuita nell'ingresso. Can I have a wake up call? Posso chiederle di essere svegliato? 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 What time is checkout? A chi ora devo effettuare il checkout? A chi ora devo effettuare il checkout? A chi ora devo effettuare il checkout? C'è il parcheggio in hotel? C'è il parcheggio in hotel? Do all the rooms have air conditioning? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Può compilare questo modulo di registrazione? Ecco la chiave della sua stanza. Ecco la chiave della sua stanza. Ecco la chiave della sua stanza. La sua stanza è al secondo piano. La sua stanza è al secondo piano. La sua stanza è al secondo piano. Could I have breakfast in my room, please? Posso fare colazione in camera? Posso fare colazione in camera? Breakfast from 7am till 10am. La colazione è dalle 7am. La colazione è dalle 7 alle 10. La colazione è dalle 7am. La colazione è dalle 8am. A che ora è aperto il bar? 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 Le auguriamo un piacevole soggiorno. Le auguriamo un piacevole soggiorno. Per favore, cambi il mio asciugamano. Per favore, cambi il mio asciugamano. I would like a different room. Vorrei un'altra stanza. La chiave della camera non funziona. La chiave della camera non funziona. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. Non funziona. Non c'è acqua calda. Non c'è acqua calda. Non c'è acqua calda. I would like to check out, please. Vorrei fare il check out. Vorrei fare il check out. Vorrei fare il check out. Could you call a taxi, please? Potrebbe chiamarmi un taxi. Potrebbe chiamarmi un taxi. Potrebbe chiamarmi un taxi. Potrebbe chiamarmi un taxi. L'hotel fornisce il trasporto per l'aeroporto. L'hotel fornisce il trasporto. Per l'aeroporto per l'aeroporto. in camera. Can I get your confirmation number? Posso avere il numero della prenotazione? Posso avere il numero della prenotazione? Posso avere il numero della prenotazione? Can I see your ID? Posso avere un documento di identità? 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 Potrebbe scandire il suo nome. Potrebbe scandire il suo nome. Potrebbe scandire il suo nome. Per quante notti soggiornerete? Per quante notti soggiornerete? Per quante notti soggiornerete? com'è stato il vostro soggiorno? com'è stato il vostro soggiorno? com'è stato il vostro soggiorno? quali sono gli orari di apertura del ristorante? quali sono gli orari di apertura del ristorante? quali sono gli orari di apertura del ristorante? mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli? mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli? mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli? was everything satisfactory? è andato tutto bene? a domestic flight volo nazionale an international flight volo internazionale volo internazionale volo internazionale i would like to book a ticket to new york vorrei prenotare un biglietto per 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 new york desidera un biglietto per new york desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno desidera un biglietto per new york desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno i book the ticket online ho prenotato il biglietto su internet 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 is this a low cost carrier? è una compagnia aerea low cost 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 il biglietto può essere restituito il biglietto può essere restituito il biglietto può essere restituito quanto dura il volo? quanto dura il volo? quanto dura il volo? quanto dura il volo? quanto costa un biglietto di andata e ritorno? 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 qual è il suo numero di prenotazione? 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 Is the flight on time? The flight is delayed. The plane will begin boarding in 20 minutes. L'imbarco inizierà tra 20 minuti. Where is the lot check-in desk? Dov'è il banco del check-in della lot? Dov'è il banco del check-in della lot? Dov'è il banco del check-in della lot? Are you checking in any bags? Ha un bagaglio da stiva. Ha un bagaglio da stiva? Ha un bagaglio da stiva? Mi dispiace. Mi dispiace. Il suo bagaglio pesa troppo. Mi dispiace. Il suo bagaglio pesa troppo. Is this your hand luggage? È questo il suo bagaglio a mano? È questo il suo bagaglio a mano? È questo il suo bagaglio a mano? How many pieces of luggage do you have? Quanti bagagli ha? Quanti bagagli ha? Quanti bagagli ha? Primavera. Dov'è il suo bagaglio sul scale. Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Dove sono i carrelli per i bagagli? Dove sono i carrelli per i bagagli? Dove sono i carrelli per i bagagli? I have a layover in Miami. Ho uno scalo a Miami. Ho uno scalo a Miami. Ho uno scalo a Miami. Qual è la sua destinazione finale? Qual è la sua destinazione finale? Qual è la sua destinazione finale? Qual è il numero del suo volo? Qual è il numero del suo volo? Qual è il numero del suo volo? Qual è la sua destinazione? Qual è la sua destinazione? Qual è la sua destinazione? Il suo volo parte dal gate 11C. Il suo volo parte dal gate 11C. Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Do you have anything to declare? Ha qualcosa da dichiarare? Ha qualcosa da dichiarare? Svuoti tutte le tasche, per favore. Svuoti tutte le tasche, per favore. Svuoti tutte le tasche, per favore. Do you have any sharp items in this bag? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Please put your coat in the tray. Metta la giacca nel contenitore, per favore. Metta la giacca nel contenitore, per favore. Please take off your belt. Si tolga la cintura, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Please take your laptop out of the bag. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Passenger Adam Smith, please proceed to gate 5. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Please have your boarding pass ready for boarding. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Smoking is prohibited for the duration of the flight. È vietato fumare durante tutto il volo. È vietato fumare durante tutto il volo. È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Controlli di avere la carta d'imbarco. Controlli di avere la carta d'imbarco. Controlli di avere la carta d'imbarco. Check-in online. Effettui il check-in online. Effettui il check-in online. Effettui il check-in online. Qual è lo scopo del suo soggiorno? Qual è lo scopo del suo soggiorno? Dove andrà a soggiornare? Dove andrà a soggiornare? Chi visiterà? Chi visiterà? Chi visiterà? Quanto tempo resterà? Quanto tempo resterà? Quanto tempo resterà? È qui per lavoro o per vacanza? È qui per lavoro o per vacanza? È qui per lavoro o per vacanza? I'd like to make an appointment to see the doctor. Just after. Vorrei fissare un appuntamento con il medico. Vorrei fissare un appuntamento con il medico. Do you have an appointment? Ha un appuntamento? Ha un appuntamento? Ha un appuntamento? What is this appointment regarding? Di cosa tratta questa visita? Di cosa tratta questa visita? Di cosa tratta questa visita? Do you have health insurance? Ha un'assicurazione sanitaria? Ha un'assicurazione sanitaria? Ha un'assicurazione sanitaria? Please, take a seat. Si sieda per favore. Si sieda per favore. Si sieda per favore. La sala d'attesa è a destra. La sala d'attesa è a destra. La sala d'attesa è a destra. Il dottore la riceverà ora. Il dottore la riceverà ora. Il dottore la riceverà ora. What seems to be the matter? Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? What hurts? Cosa le fa male? Cosa le fa male? Cosa le fa male? Can you describe your symptoms? Può descrivere i sintomi? Può descrivere i sintomi? Può descrivere i sintomi? I have a backache. Ho mal di schiena. Ho mal di schiena. Ho mal di schiena. I have a fever. Ho la febbre. Ho la febbre. Ho la febbre. I have a runny nose. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. I feel dizzy. Mi gira la testa. Mi gira la testa. Mi gira la testa. Mi gira la testa. Positiva. Ho il raffreddore. Ho la nausea. Ho la nausea. I have a cold. Sono raffreddato. I have high blood pressure. Ho la pressione alta. Ho la pressione alta. Ho l'influenza. Ho l'influenza. Ho l'influenza. Are you on any medication? Assume dei farmaci. Assume dei farmaci. Assume dei farmaci. Do you have any allergies? È allergico a qualcosa? È allergico a qualcosa? Do you have a fever? Ha la febbre? Ha la febbre? Ha la febbre? How long have you had these symptoms? Da quanto tempo ha questi sintomi? Da quanto tempo ha questi sintomi? Da quanto tempo ha questi sintomi? Ecco la sua prescrizione. Ecco la sua prescrizione. Ecco la sua prescrizione. Raccomando il riposo a letto. Raccomando il riposo a letto. Raccomando il riposo a letto. I'll need to prescribe an antibiotic. Devo prescrivere un antibiotico. Devo prescrivere un antibiotico. Devo prescrivere un antibiotico. Ascolterò il suo cuore. Ascolterò il suo cuore. Ascolterò il suo cuore. Let me take your blood pressure. Misurerò la sua pressione sanguigna. 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 Let's take your temperature. Misureremo la temperatura. Misureremo la temperatura. Misureremo la temperatura. Misureremo la temperatura. Ciò richiede un intervento chirurgico. Dobbiamo ordinare un esame del sangue. Deve andare in ospedale. Deve andare in ospedale. Deve andare in ospedale. Deve andare in ospedale. Abbiamo i risultati dei suoi esami. 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 Quali sono gli effetti collaterali? Qual è la mia prognosi? Qual è la mia prognosi? Qual è la mia prognosi? Quanto costa una stanza per una persona? Quanto costa una stanza per una persona? Quanto costa una stanza per una persona? La colazione è inclusa nel prezzo La colazione è inclusa nel prezzo La colazione è inclusa nel prezzo Sono ammessi animali domestici? Sono ammessi animali domestici? Sono ammessi animali domestici? I have a reservation under the name of Kowalski Ho una prenotazione a nome di Kowalski Ho una prenotazione a nome di Kowalski Ho una prenotazione a nome di Kowalski Can I get a room with a sea view? Posso avere una camera a vista mare? Posso avere una camera a vista mare? Dove posso trovare la camera numero 3? 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 Dove posso trovare l'ascensore? C'è la connessione wifi gratuita nell'ingresso? C'è la connessione Wi-Fi gratuita nell'ingresso? C'è la connessione Wi-Fi gratuita nell'ingresso? Posso chiederle di essere svegliato? Posso chiederle di essere svegliato? A che ora devo effettuare il check-out? A che ora devo effettuare il check-out? A che ora devo effettuare il check-out? Do you have parking facilities? C'è il parcheggio in hotel? C'è il parcheggio in hotel? Do all the rooms have air conditioning? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Può compilare questo modulo di registrazione? Può compilare questo modulo di registrazione? Può compilare questo modulo di registrazione? Ecco la chiave della sua stanza Ecco la chiave della sua stanza La sua stanza è al secondo piano La sua stanza è al secondo piano Could I have breakfast in my room, please? Posso fare colazione in camera? Posso fare colazione in camera? Posso fare colazione in camera? Breakfast from 7am till 10am La colazione è dalle 7 alle 10 La colazione è dalle 7 alle 10 La colazione è dalle 7 alle 10 What time does the bar close? A che ora è aperto il bar? A che ora è aperto il bar? A che ora è aperto il bar? Would you like any help with your luggage? Vorrebbe aiuto con i bagagli? Vorrebbe aiuto con i bagagli? Vorrebbe aiuto con i bagagli? Enjoy your stay Le auguriamo un piacevole soggiorno Le auguriamo un piacevole soggiorno Le auguriamo un piacevole soggiorno Would you please clean my room? Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Can you change my towel, please? Per favore, cambi il mio asciugamano Per favore, cambi il mio asciugamano Per favore, cambi il mio asciugamano I would like a different room Vorrei un'altra stanza Vorrei un'altra stanza Vorrei un'altra stanza My key doesn't work La chiave della camera non funziona. The air conditioning doesn't work. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. Non c'è acqua calda. Non c'è acqua calda. Non c'è acqua calda. I would like to check out, please. Vorrei fare il check out. Vorrei fare il check out. Vorrei fare il check out. Could you call a taxi, please? Potrebbe chiamarmi un taxi. Potrebbe chiamarmi un taxi. L'hotel fornisce il trasporto per l'aeroporto. C'è una vasca da bagno in camera. C'è una vasca da bagno in camera. C'è una vasca da bagno in camera. Can I get your confirmation number? Posso avere il numero della prenotazione? Posso avere il numero della prenotazione? Can I see your ID? Posso avere un documento di identità? 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 Could you spell your last name, please? Potrebbe scandire il suo nome. Potrebbe scandire il suo nome. How many nights will you be staying? Per quante notti soggiornerete? Per quante notti soggiornerete? Per quante notti soggiornerete? How is your stay? Come è stato il vostro soggiorno? Come è stato il vostro soggiorno? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli. Mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli. Mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli. E' andato tutto bene? E' andato tutto bene? E' andato tutto bene? Volo nazionale. Volo nazionale. Volo internazionale. Volo internazionale. Volo internazionale. I would like to book a ticket to New York. Vorrei prenotare un biglietto per New York. Vorrei prenotare un biglietto per New York. Do you want a one-way ticket or a round-trip ticket? Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno? Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno? Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno? Ho prenotato il biglietto su internet. Ho prenotato il biglietto su internet. Ho prenotato il biglietto su internet. Is this a low-cost carrier? È una compagnia aerea low-cost. È una compagnia aerea low-cost. È una compagnia aerea low-cost. Is the ticket refundable? Il biglietto può essere restituito. Il biglietto può essere restituito. Il biglietto può essere restituito. Quanto dura il volo? Quanto dura il volo? Quanto dura il volo? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Qual è il suo numero di prenotazione? Qual è il suo numero di prenotazione? Qual è il suo numero di prenotazione? su quali linee devo viaggiare? su quali linee devo viaggiare? su quali linee devo viaggiare? questo volo è in orario? 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 questo volo è in ritardo. si può salire a bordo. si può salire a bordo. si può salire a bordo. l'imbarco inizierà tra 20 minuti. 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 dall'imbarco inizierà tra 20 minuti. l'imbarco inizierà tra 20 minuti. dov'è il banco del check-in della lotta? dov'è il banco del check-in della lotta? ha un bagaglio da stiva? Ha un bagaglio d'astiva? Ha un bagaglio d'astiva? Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo. Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo. Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo. Is this your hand luggage? È questo il suo bagaglio a mano? È questo il suo bagaglio a mano? È questo il suo bagaglio a mano? How many pieces of luggage do you have? Quanti bagagli ha? Quanti bagagli ha? Quanti bagagli ha? Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Dove sono i carrelli per i bagagli? Dove sono i carrelli per i bagagli? Dove sono i carrelli per i bagagli? I have a layover in Miami. Ho uno scalo a Miami. Ho uno scalo a Miami. Ho uno scalo a Miami. Qual è la sua destinazione finale? Qual è la sua destinazione finale? Qual è la sua destinazione finale? Qual è il numero del suo volo? Qual è il numero del suo volo? Qual è il numero del suo volo? Qual è la sua destinazione? Qual è la sua destinazione? Qual è il numero del suo volo? Qual è la sua destinazione? Your flight leaves from gate 11C. Il suo volo parte dal gate 11C. Il suo volo parte dal gate 11C. Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Do you have anything to declare? Ha qualcosa da dichiarare? Ha qualcosa da dichiarare? Ha qualcosa da dichiarare? Svuoti tutte le tasche, per favore. Svuoti tutte le tasche, per favore. Svuoti tutte le tasche, per favore. Do you have any sharp items in this bag? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? 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 Metta la giacca nel contenitore, per favore. Metta la giacca nel contenitore, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Si tolga il laptop dalla custodia, per favore. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Passenger Adam Smith, please proceed to gate 5. Il passeggero, Adam Smith, è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Il passeggero, Adam Smith, è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Il passeggero, Adam Smith, è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Smoking is prohibited for the duration of the flight. È vietato fumare durante tutto il volo. È vietato fumare durante tutto il volo. È vietato fumare durante tutto il volo. È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO 560 per Cracovia. È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO 560 per Cracovia. È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO 560 per Cracovia. Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Sir, please sit down. The plane is taxiing. Signore, si sieda, per favore. L'aereo è in moto. Signore, si sieda, per favore. L'aereo è in moto. Signore, si sieda, per favore. L'aereo è in moto. Controlli di avere la carta d'imbarco. Controlli di avere la carta d'imbarco. Controlli di avere la carta d'imbarco. Check-in online Effettui il check-in online Effettui il check-in online Effettui il check-in online Qual è lo scopo del suo soggiorno? Qual è lo scopo del suo soggiorno? Qual è lo scopo del suo soggiorno? Dove andrà a soggiornare? Dove andrà a soggiornare? Dove andrà a soggiornare? Chi visiterà? Chi visiterà? Chi visiterà? How long do you intend to stay? Quanto tempo resterà? Quanto tempo resterà? Quanto tempo resterà? È qui per lavoro o per vacanza? È qui per lavoro o per vacanza? È qui per lavoro o per vacanza? I'd like to make an appointment to see the doctor. Vorrei fissare un appuntamento con il medico. Vorrei fissare un appuntamento con il medico. Vorrei fissare un appuntamento con il medico. Do you have an appointment? Ha un appuntamento? Ha un appuntamento? Ha un appuntamento? Di cosa tratta questa visita? Di cosa tratta questa visita? Di cosa tratta questa visita? Do you have health insurance? Ha un'assicurazione sanitaria? ha un'assicurazione sanitaria? Ha un'assicurazione sanitaria? Ha un'assicurazione sanitaria? Si sieda per favore. Si sieda per favore. The waiting room is on your right. La sala d'attesa è a destra. La sala d'attesa è a destra. La sala d'attesa è a destra. Il dottore la riceverà ora. Il dottore la riceverà ora. Il dottore la riceverà ora. Che succede? Che succede? Che succede? What hurts? Cosa le fa male? Cosa le fa male? Cosa le fa male? Can you describe your symptoms? Può descrivere i sintomi? Può descrivere i sintomi? Può descrivere i sintomi? Ho mal di schiena. Ho mal di schiena. Ho mal di schiena. Ho la febbre. Ho la febbre. Ho la febbre. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. I feel dizzy. Mi gira la testa. Mi gira la testa. Mi gira la testa. Mi gira la testa. Ho la nausea. I have a cold. Sono raffreddato. Sono raffreddato Sono raffreddato I have high blood pressure Ho la pressione alta Ho la pressione alta Ho la pressione alta I have the flu Ho l'influenza Ho l'influenza Ho l'influenza Are you on any medication? Assume dei farmaci Assume dei farmaci Assume dei farmaci Do you have any allergies? È allergico a qualcosa? È allergico a qualcosa? Do you have a fever? Alla febbre Alla febbre Alla febbre Da quanto tempo Ha questi sintomi? Da quanto tempo Ha questi sintomi? Ecco la sua prescrizione Ecco la sua prescrizione Ecco la sua prescrizione I recommended bed rest Raccomando il riposo a letto Raccomando il riposo a letto Raccomando il riposo a letto I'll need to prescribe an antibiotic Devo prescrivere un antibiotico Devo prescrivere un antibiotico Devo prescrivere un antibiotico Let me listen to your heart Ascolterò il suo cuore Ascolterò il suo cuore Ascolterò il suo cuore Let me take your blood pressure Misurerò la sua pressione sanguigna Misurerò la sua pressione sanguigna Misurerò la sua pressione sanguigna Misureremo la temperatura Misureremo la temperatura Misureremo la temperatura This requires surgery Ciò richiede un intervento chirurgico Ciò richiede un intervento chirurgico Ciò richiede un intervento chirurgico Dobbiamo ordinare un esame del sangue Dobbiamo ordinare un esame del sangue Dobbiamo ordinare un esame del sangue You need to be hospitalized Deve andare in ospedale Deve andare in ospedale Deve andare in ospedale Your test results are in Abbiamo i risultati dei suoi esami Abbiamo i risultati dei suoi esami Are my test results in yet? Sono già disponibili i risultati dei miei esami? Sono già disponibili i risultati dei miei esami? Sono già disponibili i risultati dei miei esami? Quanto tempo dovrò rimanere in ospedale? 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 I'm not feeling well Mi sento male 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 I need to get my prescription filled Devo rinnovare la mia prescrizione Devo rinnovare la mia prescrizione Devo rinnovare la mia prescrizione Voglio l'opinione di un altro medico Voglio l'opinione di un altro medico Voglio l'opinione di un altro medico Quali sono gli effetti collaterali? Quali sono gli effetti collaterali? Quali sono gli effetti collaterali? Qual è la mia prognosi? Qual è la mia prognosi? Qual è la mia prognosi? Quanto costa una stanza per una persona? Quanto costa una stanza per una persona? Quanto costa una stanza per una persona? La colazione è inclusa nel prezzo La colazione è inclusa nel prezzo La colazione è inclusa nel prezzo Are pets allowed? Sono ammessi animali domestici? Sono ammessi animali domestici? Sono ammessi animali domestici? I have a reservation under the name of Kowalski Ho una prenotazione a nome di Kowalski Ho una prenotazione a nome di Kowalski Ho una prenotazione a nome di Kowalski Can I get a room with a sea view? Dove posso trovare la camera numero 3? Dove posso trovare la camera numero 3? Dove posso trovare la camera numero 3? When is breakfast served? Dove è l'ascensore? Dove è l'ascensore? Dove è l'ascensore? Is there free wifi access in the lobby? C'è la connessione wifi gratuita nell'ingresso C'è la connessione wifi gratuita nell'ingresso Can I have a wake-up call? Posso chiederle di essere svegliato? Posso chiederle di essere svegliato? Posso chiederle di essere svegliato? A che ora devo effettuare il check-out? A che ora devo effettuare il check-out? A che ora devo effettuare il check-out? Do you have parking facilities? C'è il parcheggio in hotel 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 Do all the rooms have air conditioning? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata Tutte le stanze hanno l'aria condizionata Tutte le stanze hanno l'aria condizionata Could you please fill in this registration form? Può compilare questo modulo di registrazione? 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 Ecco la chiave della sua stanza Ecco la chiave della sua stanza Ecco la chiave della sua stanza Your room's on the second floor La sua stanza è al secondo piano La sua stanza è al secondo piano La sua stanza è al secondo piano Could I have breakfast in my room, please? Posso fare colazione in camera? Posso fare colazione in camera? Breakfast from 7am till 10am La colazione è dalle 7 alle 10 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 Would you like any help with your luggage? Would you like any help with your luggage? Enjoy your stay Enjoy your stay Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Can you change my towel, please? Per favore, cambi il mio asciugamano Per favore, cambi il mio asciugamano I would like a different room Vorrei un'altra stanza Vorrei un'altra stanza Vorrei un'altra stanza Vorrei un'altra stanza My key doesn't work La chiave della camera non funziona La chiave della camera non funziona La chiave della camera non funziona The air conditioning doesn't work L'aria condizionata non funziona L'aria condizionata non funziona There is no hot water Non c'è acqua calda Non c'è acqua calda Non c'è acqua calda Non c'è acqua calda I would like to check out, please Vorrei fare il check out Could you call a taxi, please? Potrebbe chiamarmi un taxi? Potrebbe chiamarmi un taxi? Potrebbe chiamarmi un taxi? Does the hotel provide a shuttle bus to the airport? L'hotel fornisce il trasporto per l'aeroporto L'hotel fornisce il trasporto per l'aeroporto Does the room have a bathtub? C'è una vasca da bagno in camera Can I get your confirmation number? Posso avere il numero della prenotazione? Can I see your ID? Posso avere un documento di identità? Posso avere un documento di identità? Posso avere un documento di identità? Could you spell your last name, please? Potrebbe scandire il suo nome? Potrebbe scandire il suo nome? Potrebbe scandire il suo nome? How many nights will you be staying? Per quante notti soggiornerete? Per quante notti soggiornerete? Per quante notti soggiornerete? How is your stay? Come è stato il vostro soggiorno? Come è stato il vostro soggiorno? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli? Mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli? E' andato tutto bene? E' andato tutto bene? E' andato tutto bene? Volo nazionale? Volo nazionale? Volo nazionale? An international flight. Volo internazionale. Volo internazionale. Volo internazionale. Volo nazionale. I would like to book a ticket to New York. Vorrei prenotare un biglietto per New York. Vorrei prenotare un biglietto per New York. Vorrei prenotare un biglietto per New York. Do you want a one-way ticket or a round-trip ticket? Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno? Ho prenotato il biglietto su internet. Ho prenotato il biglietto su internet. Ho prenotato il biglietto su internet. È una compagnia aerea low cost. È una compagnia aerea low cost. È una compagnia aerea low cost. Il biglietto può essere restituito. Il biglietto può essere restituito. Il biglietto può essere restituito. Quanto dura il volo? Quanto dura il volo? Quanto dura il volo? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Qual è il suo numero di prenotazione? Qual è il suo numero di prenotazione? Qual è il suo numero di prenotazione? Su quali linee devo viaggiare? Su quali linee devo viaggiare? Su quali linee devo viaggiare? Quisto volo è in orario? Quisto volo è in orario? Questo volo è in orario? Quisto volo è in ritardo? 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 L'imbarco inizierà tra venti minuti. L'imbarco inizierà tra venti minuti. L'imbarco inizierà tra venti minuti. Dov'è il banco del check-in della lott? Are you checking in any bags? Ha un bagaglio da stiva? Ha un bagaglio da stiva? Ha un bagaglio da stiva? Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo. Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo. Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo. Is this your hand luggage? È questo il suo bagaglio a mano? È questo il suo bagaglio a mano? È questo il suo bagaglio a mano? How many pieces of luggage do you have? Quanti bagagli ha? Quanti bagagli ha? Quanti bagagli ha? Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Dove sono i bagagli sulla bilancia, per favore. Dove sono i carrelli per i bagagli? Dove sono i bagagli? Dove sono i carrelli per i bagagli? I have a layover in Miami. Ho uno scalo a Miami. Ho uno scalo a Miami. Ho uno scalo a Miami. What's your final destination? Qual è la sua destinazione finale? Qual è la sua destinazione finale? Qual è il numero del suo volo? 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 Qual è la sua destinazione? Qual è il numero del suo volo? Il suo volo parte dal gate 11C. Il suo volo parte dal gate 11C. Il suo volo parte dal gate 11C. ha degli apparecchi elettronici nella valigia? 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 ha qualcosa da dichiarare? ha qualcosa da dichiarare? Svuoti tutte le tasche per favore Svuoti tutte le tasche per favore Do you have any sharp items in this bag? ha oggetti appuntiti in questa borsa ha oggetti appuntiti in questa borsa ha oggetti appuntiti in questa borsa Please put your coat in the tray Metta la giacca nel contenitore, per favore Metta la giacca nel contenitore, per favore Si tolga la cintura, 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 per favore Passenger Adam Smith, per favore Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5 Please have your boarding pass ready for boarding Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco Smoking is prohibited for the duration of the flight È vietato fumare durante tutto il volo È vietato fumare durante tutto il volo È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO 560 per Cracovia È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO 560 per Cracovia È l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO 560 per Cracovia Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo 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 Si prega di allacciare le cinture di sicurezza Si prega di allacciare le cinture di sicurezza Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo Signore, si sieda per favore L'aereo è in moto Signore, si sieda per favore L'aereo è in moto Signore, si sieda per favore L'aereo è in moto Controlli di avere la carta d'imbarco Controlli di avere la carta d'imbarco Check-in online Effettui il check-in online Effettui il check-in online Effettui il check-in online Qual è lo scopo del suo soggiorno? Qual è lo scopo del suo soggiorno? Qual è lo scopo del suo soggiorno? Dove andrà a soggiornare? Dove andrà a soggiornare? Dove andrà a soggiornare? Dove andrà a soggiornare? Quanto tempo resterà? Quanto tempo resterà? Quanto tempo resterà? È qui per lavoro o per vacanza? È qui per lavoro o per vacanza? È qui per lavoro o per vacanza? Dove andrà a soggiornare? I'd like to make an appointment to see the doctor Vorrei fissare un appuntamento con il medico Vorrei fissare un appuntamento con il medico Do you have an appointment? Ha un appuntamento? Ha un appuntamento? Di cosa tratta questa visita? Do you have health insurance? Ha un assicurazione sanitaria? Ha un assicurazione sanitaria? Si sieda, per favore Si sieda, per favore Si sieda, per favore La sala d'attesa è a destra La sala d'attesa è a destra La sala d'attesa è a destra Il dottore la riceverà ora Il dottore la riceverà ora Il dottore la riceverà ora Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Cosa le fa male? Can you describe your symptoms? Può descrivere i sintomi? Può descrivere i sintomi? I have a backache. Ho mal di schiena. Ho mal di schiena. Ho mal di schiena. I have a fever. Ho la febbre. Ho la febbre. Ho la febbre. I have a runny nose. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. I feel dizzy. Mi gira la testa. Mi gira la testa. Mi gira la testa. I feel nauseous. sono raffreddato. Ho la nausea. 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 sono raffreddato. Sono raffreddato. I have high blood pressure. ho la pressione alta. Ho la pressione alta. Ho la pressione alta. ho l'influenza. Ho l'influenza. Ho l'influenza. Ho l'influenza. Are you on any medication? Assume dei farmaci. Assume dei farmaci. Assume dei farmaci. Do you have any allergies? È allergico a qualcosa? È allergico a qualcosa? È allergico a qualcosa? Do you have a fever? Ha la febbre? Ha la febbre? Ha la febbre? How long have you had these symptoms? Da quanto tempo ha questi sintomi? Da quanto tempo ha questi sintomi? Da quanto tempo ha questi sintomi? Here's your prescription. Ecco la sua prescrizione. Ecco la sua prescrizione. Ecco la sua prescrizione. Raccomando il riposo a letto. Raccomando il riposo a letto. Raccomando il riposo a letto. Devo prescrivere un antibiotico. Devo prescrivere un antibiotico. Devo prescrivere un antibiotico. Ascolterò il suo cuore. Ascolterò il suo cuore. Ascolterò il suo cuore. Misurerò la sua pressione sanguigna. 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 Misureremo la temperatura. Misureremo la temperatura. Ciò richiede un intervento chirurgico. Ciò richiede un intervento chirurgico. Ciò richiede un intervento chirurgico. Dobbiamo ordinare un esame del sangue. Dobbiamo ordinare un esame del sangue. Dobbiamo ordinare un esame del sangue. Deve andare in ospitale. Deve andare in ospedale. Deve andare in ospedale. Abbiamo i risultati dei suoi esami. Abbiamo i risultati dei suoi esami. Abbiamo i risultati dei suoi esami. Sono già disponibili i risultati dei miei esami? Sono già disponibili i risultati dei miei esami? Sono già disponibili i risultati dei miei esami? Quanto tempo dovrò rimanere in ospedale? Quanto tempo dovrò rimanere in ospedale? Quanto tempo dovrò rimanere in ospedale? Mi sento male. Mi sento male. Mi sento male. Mi sento male. Devo rinnovare la mia prescrizione. 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 Voglio l'opinione di un altro medico. Voglio l'opinione di un altro medico. Voglio l'opinione di un altro medico. Quali sono gli effetti collaterali? 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 Sono ammessi animali domestici? I have a reservation under the name of Kowalski. Can I get a room with a sea view? Where can I find room number three? Dove posso trovare la camera numero tre? Dove posso trovare la camera numero tre? Dove posso trovare la camera numero tre? When is breakfast served? Quando viene servita la colazione? Quando viene servita la colazione? Dov'è l'ascensore? Dov'è l'ascensore? Dov'è l'ascensore? Is there free wifi access in the lobby? C'è la connessione wifi gratuita nell'ingresso? C'è la connessione wifi gratuita nell'ingresso? Can I have a wake-up call? Posso chiederle di essere svegliato? Posso chiederle di essere svegliato? Posso chiederle di essere svegliato? Dov'è l'ascensore? What time is checkout? A che ora devo effettuare il checkout? A che ora devo effettuare il checkout? Do you have parking facilities? C'è il parcheggio in hotel? C'è il parcheggio in hotel? C'è il parcheggio in hotel? Do all the rooms have air conditioning? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Tutte le stanze hanno l'aria condizionata? Could you please fill in this registration form? Può compilare questo modulo di registrazione? Ecco la chiave della sua stanza. Ecco la chiave della sua stanza. Ecco la chiave della sua stanza. Your room's on the second floor. La sua stanza è al secondo piano. La sua stanza è al secondo piano. La sua stanza è al secondo piano. Could I have breakfast in my room, please? Can I have breakfast in my room? 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 locale è teore metà sono minuiti alle blinti alle 00 né. A che ora è aperto il bar? Would you like any help with your luggage? Vorrebbe aiuto con i bagagli? Enjoy your stay. Le auguriamo un piacevole soggiorno. Le auguriamo un piacevole soggiorno. Le auguriamo un piacevole soggiorno. Would you please clean my room? Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Potrebbe pulire la mia stanza, per favore? Can you change my towel, please? Per favore, cambi il mio asciugamano. Per favore, cambi il mio asciugamano. I would like a different room. Vorrei un'altra stanza. Vorrei un'altra stanza. Vorrei un'altra stanza. La chiave della camera non funziona. La chiave della camera non funziona. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. L'aria condizionata non funziona. Non c'è acqua calda. Non c'è acqua calda. Non c'è acqua calda. I would like to check out, please. Vorrei fare il check out. Vorrei fare il check out. Vorrei fare il check out. Could you call a taxi, please? Potrebbe chiamarmi un taxi? Potrebbe chiamarmi un taxi? Does the hotel provide a shuttle bus to the airport? L'hotel fornisce il trasporto per l'aeroporto. L'hotel fornisce il trasporto per l'aeroporto. L'hotel fornisce il trasporto per l'aeroporto. Does the room have a bathtub? C'è una vasca da bagno in camera. C'è una vasca da bagno in camera. Can I get your confirmation number? Posso avere il numero della prenotazione? Posso avere il numero della prenotazione? Can I see your ID? Posso avere un documento di identità? 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 Potrebbe scandire il suo nome? Potrebbe scandire il suo nome? Potrebbe scandire il suo nome? Per quante notti soggiornete? Per quante notti soggiornete? Per quante notti soggiornete? Come è stato il vostro soggiorno? Come è stato il vostro soggiorno? Come è stato il vostro soggiorno? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Quali sono gli orari di apertura del ristorante? Mi scusi, potrebbe aiutarmi con i bagagli? 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 E' andato tutto bene? E' andato tutto bene? E' andato tutto bene? Volo nazionale? 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 Vorrei prenotare un biglietto per New York. Vorrei prenotare un biglietto per New York. Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno? Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno? Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata e ritorno? Desidera un biglietto di sola andata o un biglietto di andata o un biglietto di andata o un biglietto di andata e ritorno? Ho prenotato il biglietto su internet. Is this a low-cost carrier? È una compagnia aerea low-cost. È una compagnia aerea low-cost. È una compagnia aerea low-cost. Is the ticket refundable? Il biglietto può essere restituito. Il biglietto può essere restituito. Il biglietto può essere restituito. Quanto dura il volo? Quanto dura il volo? Quanto dura il volo? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Quanto costa un biglietto di andata e ritorno? Qual è il suo numero di prenotazione? Qual è il suo numero di prenotazione? Qual è il suo numero di prenotazione? Su quali linee devo viaggiare? Su quali linee devo viaggiare? Is the flight on time? Questo volo è in orario? Questo volo è in orario? Questo volo è in orario? The flight is delayed. Questo volo è in ritardo. Questo volo è in ritardo. Questo volo è in ritardo. The flight is now boarding. Si può salire a bordo. Si può salire a bordo. Si può salire a bordo. The plane will begin boarding in 20 minutes. L'imbarco inizierà tra 20 minuti. L'imbarco inizierà tra 20 minuti. L'imbarco inizierà tra 20 minuti. Dov'è il banco del check-in della lotta? Dov'è il banco del check-in della lotta? Dov'è il banco del check-in della lotta? Are you checking in any bags? Ha un bagaglio da stiva. Ha un bagaglio da stiva. Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo. Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo. Mi dispiace, il suo bagaglio pesa troppo. È questo il suo bagaglio a mano? È questo il suo bagaglio a mano? È questo il suo bagaglio a mano? How many pieces of luggage do you have? Quanti bagaglia? Quanti bagaglia? Quanti bagaglia? Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Metta i bagagli sulla bilancia, per favore. Dove sono i carrelli per i bagagli? Dove sono i carrelli per i bagagli? Dove sono i carrelli per i bagagli? I have a layover in Miami. Ho uno scalo a Miami. Ho uno scalo a Miami. Ho uno scalo a Miami. Qual è la sua destinazione finale? Qual è la sua destinazione finale? Qual è il numero del suo volo? Qual è il numero del suo volo? Qual è il numero del suo volo? Qual è la sua destinazione? Qual è la sua destinazione? Qual è la sua destinazione? Il suo volo parte dal gate 11C. Il suo volo parte dal gate 11C. Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Ha degli apparecchi elettronici nella valigia? Do you have anything to declare? Ha qualcosa da dichiarare? Ha qualcosa da dichiarare? Ha qualcosa da dichiarare? Svuoti tutte le tasche, per favore. 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 Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Ha oggetti appuntiti in questa borsa? Si sono puntiti in questa borsa? Metta la giacca nel contenitore, per favore. Metta la giacca nel contenitore, per favore. Metta la giacca nel contenitore, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Si tolga la cintura, per favore. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Tolga il laptop dalla custodia, per favore. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Il passeggero Adam Smith è pregato di rivolgersi al gate numero 5. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano le carte d'imbarco prima dell'imbarco. È vietato fumare durante tutto il volo. È vietato fumare durante tutto il volo. E' l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. E' l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. E' l'ultima chiamata d'imbarco per il volo LO560 per Cracovia. Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Vorremmo ora invitare a bordo i passeggeri di prima classe. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Invitiamo tutti i passeggeri a salire a bordo. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Si prega di allacciare le cinture di sicurezza. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Spegnere i telefoni cellulari o passare alla modalità aereo. Sir, please sit down. The plane is taxiing. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Signore, si sieda per favore. L'aereo è in moto. Controlli di avere la carta d'imbarco. Controlli di avere la carta d'imbarco. Controlli di avere la carta d'imbarco. Check-in online. Effettui il check-in online. Effettui il check-in online. Qual è lo scopo del suo soggiorno? Qual è lo scopo del suo soggiorno? Qual è lo scopo del suo soggiorno? Dove andrà a soggiornare? Dove andrà a soggiornare? Dove andrà a soggiornare? Chi visiterà? Chi visiterà? Chi visiterà? How long do you intend to stay? Quanto tempo resterà? Quanto tempo resterà? Quanto tempo resterà? Are you here for business or pleasure? È qui per lavoro o per vacanza? È qui per lavoro o per vacanza? È qui per lavoro o per vacanza?